Rai. La notizia shock di pochi minuti fa. Terribile addio in tv. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dopo la conclusione della finalissima di Ballando con le stelle, Millie Carlucci ha ufficialmente annunciato l'addio al programma, il cantante mascherato. La conduttrice ha confermato che lo show andrà in panchina per lasciare spazio a un nuovo format. Già oggetto delle riflessioni della presentatrice. Durante un'intervista a TV Talk, Millie Carlucci ha dichiarato. La Rai mi ha chiesto di far riposare il cantante mascherato. Che è un figlio prediletto e magari lo riporteremo in onda l'anno prossimo o fra due anni. Vediamo quando. Mi hanno chiesto di studiare qualcosa di diverso e ci stiamo muovendo intorno ad un concetto che ci piace tanto. Ovvero il confronto tra la celebrità. Ovvero la persona strutturata e che ha successo. E il talento. Non si tratta di una cancellazione definitiva del cantante mascherato. Al contrario, lo show va in panchina temporaneamente. E si valuterà la possibilità di riproporlo in futuro. Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche del nuovo programma che prenderà il posto del cantante mascherato. Tuttavia, si sa che sarà incentrato sulla competizione tra celebrità e talenti, mantenendo l'approccio di un talent show. In attesa di ulteriori dettagli, Millie Carlucci può godersi il successo di, Ballando con le stelle, che ha ottenuto risultati record con una media di 3.300.000 spettatori e uno share del 23,9%, come comunicato ufficialmente dalla Rai. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.